Ha lasciato la sede storica di Corso Video, ma mantiene un profondo legame con il territorio. È l'avventura della BPR che ha donato tutti gli arredi e gli immobili dell'ex Carispa al comune di Sulmona. La donazione è stata presentata stamane in conferenza stampa a Palazzo San Francesco. Un investimento importante che accogliamo con estrema soddisfazione, afferma il sindaco Peppino Ranalli. Faremo buon uso del nuovo arredo immobiliare che sarà impiegato negli uffici comunali e in quegli spazi pubblici che fra poco torneranno nelle mani della città. Innanzitutto un ringraziamento ai dirigenti e al direttore Ranalletta per la vicinanza che si dimostra anche in questo momento all'istituzione, quindi al comune di Sulmona. Quindi una banca del territorio che è vicina alla città e vicina al comune di Sulmona. Ci dà la possibilità in questo momento di fare un ulteriore passo avanti perché l'acquisizione delle attrezzature, degli uffici, delle strutture permettono di poter dare anche una spinta all'iniziativa che noi abbiamo in corso. L'acquisizione di nuovi immobili anche col federalismo demaniale, penso la Caserma Pace, l'apertura di nuovi uffici, l'avvio delle iniziative quali quelle dello Sportello Europa, del co-working, del centro sociale anziani, penso possono oggi definirsi ancora meglio grazie a questa sponsorizzazione, contributo, come vogliamo chiamarlo, ma che ci permette a noi di essere immediatamente operativi. Abbiamo accolto con gioia l'invito del comune e ci ha fatto molto piacere poter utilizzare questa attrezzatura a favore del comune, dato che noi venivamo da questa ristrutturazione, e quindi questo accorpamento dei filiali. Come tutte le cose noi siamo vicini alle istituzioni ogni volta che ci se ne presenta l'occasione. Continueremo su questa linea anche perché, come dicevo prima, la banca è diventata una banca nazionale ma lo spirito è sempre una banca locale legata al territorio. Quindi sia nei confronti dell'istruzione, sia nei confronti della cittadinanza che degli imprenditori della zona, siamo sempre disponibili per variare tutte le richieste che ci verranno inoltrate. Ranalli ha poi annunciato che il primo immobile a tornare fruibile sarà quello dell'ex Caserma Pace, destinato al centro sociale anziani. Sicuramente la casa degli uffici della Caserma Pace, dove adesso noi abbiamo spostato alcuni uffici importanti che sono la cultura, il sociale, il turismo, con l'ufficio legale, su cui insisteranno anche i collegamenti con lo sportello Europa, assegnato al centro servizi territoriali. Sicuramente una mano anche all'ufficio, al centro sociale anziani, ma soprattutto queste attività ci permetteranno e questa donazione ci permetterà naturalmente di colmare dei vuoti che oggi ancora abbiamo anche nei nostri uffici comunali e di infrastrutturare anche palazzo Meliorati che abbiamo a disposizione. Lei accennava anche degli interventi sul microcredito per sostenere l'imprenditore. Ho lanciato oggi questa idea perché siamo in una fase del programma di mandato matura. Abbiamo bisogno di rilanciare le piccole attività all'interno del centro storico. Ci sono dei fondi già postati in bilancio, altri li metteremo con il bilancio di previsione. La mia intenzione è quella naturalmente, oltre ad avere un rapporto con la BPR che si è manifestato in questa situazione, convocare ad un tavolo tutti gli istituti di credito, attivare la finanziaria regionale abruzzese e i fondi di garanzia per avviare un'attività dove il Comune di Sulmona farà la sua parte, chiederemo anche agli istituti di fare la sua parte per creare un fondo di rotazione che possa poi procedere e sostenere le piccole e medie imprese con l'abbattimento dei tassi di interesse.